Sul risentimento, cioè che il risentimento, l'indignazione, la rabbia, chiamiamolo così, la protesta, tutta questa roba qui, oggi molto spesso sono promozionali, cioè servono molto a chi li esprime. E naturalmente questo non vuol dire che non si deve trovare indignazione, non si deve trovare il risentimento. Però diciamo così che oggi, molto più spesso di quanto noi ci immaginiamo, il risentimento viene usato, viene usato per proprio, diciamo, vantaggio. Questo è l'altro. E l'ultimo è il senso comune, e cioè praticamente il fatto che oggi l'ideologia, le astrazioni, coprono la realtà. E in qualche modo non te la fanno più vedere. Cioè la realtà è coperta dalle astrazioni. E quindi riscoprire l'evidenza è qualcosa di non facile. Insomma oggi che un uovo è un uovo, vuole dimostrare a certe persone, perché non è evidente. Mentre invece l'evidenza andrebbe riaffermata. Andrebbe riaffermata l'evidenza e andrebbe riaffermata il fatto che...